Le forze speciali al giorno d'oggi con lo sviluppo della minaccia, con lo sviluppo tecnologico, con lo sviluppo dei rischi, con le trasformazioni in atto, sono veramente un elemento strategico fondamentale per la sicurezza del paese e per la sicurezza internazionale. Sono una struttura proprio per definizione interforze, si entra in un ambito in cui si parla di dominio aereo, dominio navale, dominio terrestre, ma sotto un'unica visione di impiego di personale capace di agire per lungo tempo e in cui la loro azione si traduce sempre in un effetto strategico. Quindi personale altamente qualificato, sistemi particolarmente avanzati ma soprattutto un concetto, una filosofia di impiego che effettivamente mette in questo momento l'Italia fra le nazioni che contano nel mondo.